buongiorno a tutti belli e brutti bentornati al canale primo video mattutino ragazzi un buongiorno a tutti un buon caffè buona colazione buona giornata buon proseguimento come dico come dico sempre buon tutto allora intanto iscrivetevi al canale like campanellina tutte tutte quelle belle cose che deve fare uno che segue michelone quando fate questo avrete sempre il mio cuore dopo questa paraculata iniziale parliamo di cose serie cioè porca puttana ma cambiano tutte ma quello lì non te lo tiri fuori dai coglioni è incredibile incredibile cambiano tutti quello lì non riesce a tirartelo fuori dai coglioni io continuo a dire che questo deve avere qualcosa in mano per ricattare la juventus perché non è possibile che una società come la juventus si con tutti i problemi che ci sono perché va bene ci sono problemi e problemi finanziari diciamo problemi finanziari che sono scorreggia per el can però dai su hai fatto 80 milioni in borsa l'altro giorno ma dagliene 40 perché vada fuori dal cazzo finiamo la sta storia sta storia non lo vuole nessuno ma fanno pubblicità anche nelle stazioni radio fanno pubblicità nelle stazioni radio ragazzi che non lo vogliono ma volete capire che questo qui che non lo vuole nessuno guardate che scherzate col fuoco è perché è la gente non vi guarda più non guarda più la juventus non farà abbonamenti non andrà allo stadio non comprerà magliette io sono soprattutto uno che spende molti molti soldi perché lo stadio è troppo lontano io non ci vado allo stadio da son quelle robe di io non l'ho mai preso perché io sono contro le televisioni a pagamento ma spendevo tanti soldi e magliette tutte gadget quelle robe la non spendo più non spendo più un euro fin quando non va andrà via questo allenatore di livello di ripeto per il miliardesimo volta fin quando non andrà via questo allenatore io non comprerò più un cazzo della juventus non comprerò più un cazzo poi vedremo fin quando questi qua non si mettono in riga non spendo più un euro che devo andare a spendere dar soldi a quei fettenti la ma non esiste ma non esiste ma vado 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 puttane piuttosto vado puttane cazzo è e porca puttana cioca ma dosca ora di finire la costone argomeno qua fuori del coglione c'è cambiano tutti cambiano tutti e questo qui non riesce a tirartelo fuori del coglione incredibile incredibile guardate una cosa che devo dire parliamo di mila un momentino perché ho visto la notizia che anche maldini ma sarà gli spediscono fuori dalle palle ma vedete com'è come una società diciamo già più seria una società già più seria questi qua io penso è penso che non so avranno fatto la voce grossa non gli sarà andato non gli sarà andata bene qualcosa che il proprietario gli avrà detto magari avranno avuto delle divergenze sicuramente sul calcio sul calcio mercato perché loro avranno detto bisogna prendere giocatori forti quegli altri non gliene frega niente perché sicuramente non gliene frega niente perché io continuo a dire che secondo me secondo me a quelli del ai proprietari del milan del milan in fondo non gliene frega niente a quelli lì interessa far soldi perché quelli lì sono delle banche per quello io tante volte vi dico che fondi cinesi quelle robe non va guarda piuttosto in mano un arabo almeno quelli li spendono si divertono e buttano via i soldi non gliene frega niente ma in mano a cinesi soprattutto e fondi speculativi banche sì hanno vinto quello scudetto lì dopo che se l'abbia mangiato più l'intero che abbiano avuto più questo qui lascia la sua perra perché ognuno ha la propria alla propria al proprio parere però con quelli la con quelli la come piace dire a me con quelli la con le banche non vincerete più niente perché quelli la sono non azienda si diciamo aziendalisti a quelli interessa far quadrare il bilancio a fare schei non gliene frega altro anche di andare se quelli lì vanno in perdita di qualche milione a quelli li vengono i cappelli dritti sicuramente maldini e massara li saranno andati lato o ciccio qua bisogna far mercato di tirare fuori schei e quell'altro li verrà mandati a fare in culo così è così e invece cioè io vedo che tutti quanti cambiano dirigente d'altra parte e questo qui è da noi non riesci a tirartelo fuori dai coglioni incredibile incredibile io per me questo qui ha qualcosa in mano qualcosa in mano per ricattare la juventus non lo so perché quello lì è un fettente quello lì guardate me ne sono accorto anch'io tardi anch'io tardi o mai cominci a perdere il perché una volta le beccavo subito le persone o mai cominci a becchiare cominci a perdere il senso del del beccarti no ma questo questo qua nascondeva bene nascondeva bene la 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 tirchiaggine dei soldi e la 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 schifosità di di personaggio che è la nascondeva veramente bene questo è un viscido ragazzi è un viscido è un viscido porca puttana non riesci a tirartelo fuori dai coglioni adesso arriva giuntoli e buono ormai è fatto avevo dei sentori perché quando avevo sentito dire ma promosso mana si promuovono mana momentaneamente poi collaborerà congiuntoli meno male che arriva quello la meno male che arriva poi c'è calvo che una persona intelligente di quello che si dice siamo andato a fare in culo poi due volte allegri perché anche quelli lì non lo vogliono però è il proprietario che deve dare l'ultima parola perché presidente può fare quel cazzo che vuole ma non è calvo il proprietario addirittura si parla che l'alto scanavino mi pare ha dato un consiglio a elkan di vendere la juventù ma magari ma magari che si tolgano dalle palle tutti ragazzi che si tolgano dalle palle tutte serzone vesicchio detto che non succederà mai non succederà mai però io ho sempre qualche speranza che vadano fuori dalle palle tutti tutti guardate preferisco che la juventus vada in mano a uno lì come quello del paris san germain o del sito almeno quelli spendono vogliono vincere si incazzano se non vincono qui è sempre ormai abbiamo cosa del cuore piatto retrocardiogramma piatto questa qui non è più una società di quelle non lo so io non vedo più una non vedo più il coso juventus non vedo più quella quella mi hanno fatto passare anche me la voglia di guardare la juventus mi hanno fatto passare la voglia di guardare da quando soprattutto è ritornato questo schifoso qua perché era ero anch'io titubante ma anche mia mamma lo aveva detto mia mamma che non capisce un cazzo di calcio ha detto no di nuovo quello là no di nuovo quello là e aveva ragione mia mamma perché mia mamma sempre ragione sempre mia mamma le becca tutte tutte sia il suo lavoro che sul calcio non sovra un sesto senso mia mamma le becca tutte questo volevo dirvi molto sono a parte il becca morto lì sono rimasto molto scioccato dalla dalla dio sicuramente dicono di massare maldini non me l'aspettavo questa milanini è comunque buona fortuna adesso oggi è martedì domani si tifa west ham west ham perché io le squadre italiane soprattutto certe squadre le gufo le gufo perché secondo me la fiorentina è una delle tifoserie più schifose in italia sono quattro gatti su quattro gatti sono una delle tifose più più una delle tifoserie più aggressive e più maleducate che ci siano in italia quindi sicuramente gli gufo contro sulla roma ripeto ero un po perpresso ma più che altro per via della merda che hanno in panchina perché la roma bene o male non è che abbia sì bon ci sono stati quelle volte negli anni 80 però del resto quella roma roma lazio napoli non lo so perché continuano a avercela con quello non l'ho mai capito perché sono lì si parla dei tempi di maradona si parla ce lo spiegheranno un giorno ce lo spiegheranno buon siamo andati un po fuori dal 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 disegno allegri vai fuori dal cazzo vai fuori dal cazzo vai fuori dal cazzo allegri vai fuori dal cazzo porca puttana milanini guardate che neanche prossimo anno eh c'è trippa per gatti la vedo molto molto dura per voi la vedo molto molto dura eh ragazzi così grazie grazie bonds ci